un pezzo di mieva il bacino è questo mi esplotavano fuori? il bacino chissà quanta montagna si sono mangiati in 4.000 anni è abbastanza guarda lì c'è la gialla è il ferro che rugginisce saluta il popolo del web non si dice le parole qui ci venivo sempre Morino prima che lo recintavano e ora le ragazze che l'ho detto te sei l'unica Morino donna della mia vita sappilo questa roba qui la metto pure su internet che la vede tutto il mondo Morino a me non mi mettere perché ti denuncio io ti denuncio pure io ti denuncio denuncia me anche ma proprio quando faccio cagare siete delle mezze e io vi metto su internet non ti strago il canale eh non posso non posso però ti ci metto e io ti faccio partire di strike ma con lui è vietato venire a partire era aperto e c'è scritto se ti fai male cazzi tua e non si dice le parolacce Morino ma guarda quanto è bello qui sei male vero ma questa non è che l'hanno fatta apposta è così e basta questo è tutto fermo la miniera di riume dove siamo qui noi siamo qui vedi dove siamo noi vediamo ora non ci vedo un'allegra cippa e spero che si legge qualche cosa comunque ecco questo cantiere qui è il cantiere del bacino e ci hanno lasciato il cancello aperto si vede che l'estate cioè l'inverno non ci portano la gente col trenino se no fanno le escursioni qui col trenino ci portano a giro per tutta la miniera una volta ci sono pure venuto che ci ho portato dell'ospite da lì si va dove siete voi all'antenna che fa il caccio morire se se hanno la buona io vado verso qui entro nel bacino tanto vi vedo non è che ecco qui ci hanno messo il cartello del bacino e questi sono i minerali che ci tiravano fuori le matite più che altre piride che le matite fate conto di questo genere questa qui dorata invece la qui di te qui ci sono dei pezzi di macchinari da miniero è lì quella è una locomotiva che andavano a giro con questi macchinari lì c'era una costruzione c'è ancora una costruzione di fatto che l'hanno restaurata lì ci lavavano il minerale poi lo portavano dove c'è quel ponte rugginoso che c'è un impianto ancora più grosso lì lo lavavano in quell'altro impianto lo macinavano lo caricavano dai pontili nelle nari prima ce n'era quattro di questi pontili ma io l'ho conosciuto uno solo gli altri tre l'hanno smontato questo è il bacino visto dall'altro qui c'era il lavaggio del minerale che l'hanno restaurato che era tutto parato quello è il trenino che ci portano a giro la gente per i minerati andiamo a vedere qui lavavano il minerale prima era tutto una rovina ora l'hanno restaurato per portarci la gente in visita grazie grazie grazie